...ma anche l'accoglienza che lui ha cercato tra i uomini e le loro case. Il presente, ammettato proprio qui, vuole essere la nostra grata preghiera al bambinello di Betlen. Benvenuto tra noi, figlio prediletto del padre, frutto meraviglioso del parto virginale di tua madre Maria. Bambino accolto e difeso da Giuseppe, esempio di ogni paternità qui in terra. Bambino annunciato e glorificato dalla famiglia celeste degli angeli. Bambino accolto e adorato dalle famiglie con le loro pecleo. Bambino ora guardato con riconoscenza e amore dai nostri occhi. Proteggi le nostre famiglie, le nostre case e il nostro paese. Proteggi la famiglia delle famiglie, la nostra parrocchia. Proteggi le giovani famiglie che stanno per nascere e quelle che lentamente si spaldano. Donaci di incontrarci tutti in giorni e di comporre in cielo la tua grande famiglia, dove ci sarà solo la mia perfetta di Dio a completare di gioia i nostri giorni eterni. Amo. La magia del presepio del Sacro Monte di Varese. Salvatore è venuto al mondo a annunciare la parola di Dio. Salvatore è venuto al mondo a annunciare la parola di Dio.